Ebbene sì ladies, andiamo a vivere negli Stati Uniti d'America. Avete ormai letto dal titolo e sono sicura che come me sarete rimaste così a bocca aperta. È la terza volta che provo ad iniziare questo video e non so come cominciarlo ladies perché darvi questa notizia, annunciarvi questa cosa è sicuramente per me un'emozione enorme prima di tutto perché è come se lo stessi facendo a delle amiche, a qualcuno di famiglia perché ormai da ben 12 anni siete le mie amiche virtuali, la mia famiglia virtuale e quindi darvi una notizia così importante non è per niente semplice. Tranquille, mettetevi comodi, adesso vi racconto tutto. È un'emozione enorme perché non è una decisione presa dall'oggi al domani naturalmente e qui ho anche gli occhiali che ho tolto perché comunque sono un po' agitata, un po' emozionata per questo annuncio e quindi un po' li tolgo, un po' li metto sapete no? Ho immaginato tante tantissime volte come avrei fatto questo video e ho deciso comunque di raccontarvi questa cosa così importante, questo momento così importante della mia vita e della mia famiglia che sicuramente coinvolgerà anche tutti voi. Non so bene cosa sto dicendo, sono sincera, non mi sono preparata niente e invece per un video così importante avrei dovuto. Quindi io parlerei di quello che mi riesce meglio, di quello che so fare meglio quindi come mi vedete tutti i giorni nei vlog farò anche adesso. Questo video sarà particolarmente importante sia perché sì, finalmente posso dirvelo vado a vivere negli Stati Uniti. Manca pochissimo veramente e quindi è arrivato il momento di darvi questo annuncio. Questo avvenimento così importante ovviamente ho voluto far sì che lasciasse un segno importante anche per voi, un'emozione anche per voi che mi seguite con tanta stima e con tanto affetto da anni quindi sia per questioni di tempo sia per questioni proprio di importanza dell'evento oggi ci sarà anche appunto un nuovo lancio di Filomen Amore con un restock incredibile, due restock anziché amate tantissimo di una borsa che vi fa impazzire, ora ve la faccio vedere, più una nuova borsa e è un momento di festeggiamento, è un momento di festeggiamento per questa partenza tanto importante questo trasferimento perché ladies lasciamo l'Italia e andiamo a vivere in America quindi è una cosa importante, incredibile, enorme, huge come direbbero appunto gli americani e quindi credetemi guardate questo video perché ci saranno tantissimi regali per voi voglio festeggiare alla stragrandissima e via via durante il video vi racconto anche di questo trasferimento e di questa nuova vita che ci aspetta negli Stati Uniti d'America allora mi infilo un attimo gli occhiali, partirei subito con il restock da tutte amate ve lo dico già ladies ci sono pochi pezzi, la amate tantissimo io ve la faccio vedere, ve l'ho fatta in 5 colori, sto parlando di lei Lady Smeralda è tornata, eccola qui, tiriamo fuori anche la catena bellissima non ho bisogno di tante presentazioni perché l'avete amata tantissimo quando è uscita scrivete in continuazione per averla e ho voluto abbinarla proprio a questo lancio così importante di oggi comunque per farvi una sorpresa in questo giorno tanto importante per me sapete che Lady Smeralda è questa borsa trapuntata in pelle made in Italy e fatta appunto artigionalmente in Italia dal marchio Filomen Amore viene con la sua catena super chic per portarla a mano ma ovviamente viene anche con la catena gioiello con la pattina in pelle che quindi non dà fastidio alla spalla per portarla sia a spalla che crossbody è una borsa media, molto capiente, bellissima, la conoscete bene dietro ha anche la sua tasca qui con bottone è uno spettacolo di borsa che ormai conoscete meglio di me chi mi chiedete da anni, finalmente Lady Smeralda Aceback anche se in pochissimi pezzi vi faccio vedere subito i colori nera la più amata di sempre eccola qui nude Lady Smeralda Aceh è uno spettacolo è un capolavoro l'adoro io non so quale colore portarmi in America tra le altre cose poi ne parliamo di tutte le borse e delle valigie che devo farmi per portarmi tutto negli Stati Uniti e nella nuova casa eccola qui nude non poteva mancare un colore che avete stramato gli anni scorsi quindi l'ho voluto assolutamente riproporlo eccolo qui è questo azzurro delicatissimo vedete è un celeste proprio polvere chiaro chiaro ovviamente anche lui con la sua tracollina bellissima è morbidissima ladies cioè è un pellame spettacolare veramente ormai conoscete le mie borse le acquistate da anni le amate e le ricomprate e Lady Smeralda se non l'avete dovete assolutamente averla eccola qui quella che io ho scelto per me quando appunto ho fatto il primo lancio Lady Smeralda è lei ovvero la cuoio è bellissima a me piace molto l'accoppiata cuoio oro la trovo chicchissima e quindi ovviamente l'ho voluta tenere per me cuoio ora devo decidere quale colore prendere vi dico la verità sono abbastanza indecisa e per finire torna un colore super amato da voi ladies io sto morendo dal caldo con queste luci non ve lo dico proprio che è il color panna classico panna chic lo abbinate su tutto lo sapete quindi insomma spettacolo anche in panna la nostra bellissima Lady Smeralda eccola qui in tutto il suo meraviglioso splendore che vi devo dire non c'è niente da aggiungere su questa borsa perché è di una femminilità di un'eleganza incredibile la abbinate bene sui jeans la mettete bene a una cerimonia io l'ho indossata al matrimonio di mio cognato di qualche anno fa l'ho indossata a quella nude cioè spettacolo Lady Smeralda bellissima pochi pezzi a disposizione disponibile su Filomena Amore che non è più punto com ecco ci sono tante novità che vi racconto in questo video una di queste è proprio questa Filomena si trasferisce negli Stati Uniti e con lei anche Filomena Amore piano piano vi racconto tutto quello che riguarda il nostro trasferimento e quindi da oggi in poi il sito di Filomena Amore italiano ed europeo sarà filomenamore.it quindi troverete il sito di Filomena Amore su filomenamore.it non vi preoccupate anche se andate su punto com in automatico sarete poi reindirizzate su filomenamore.it dedicato proprio all'Italia e a voi ladies questa era Lady Smeralda ho voluto subito farvi questo restock per farvi contente ma adesso andiamo a vedere una borsa che ho disegnato proprio quando mi approcciavo a preparare tutto per il trasferimento quindi ci sono particolarmente affezionata vi dico la verità perché è un po' diversa da quelle che sono le mie borse lo vedrete anche nei colori ma è una borsa che racchiude tanta forza tanta comodità secondo me e tanta bellezza della nostra Italia ed è lei Lady non so in che colore farvela vedere perché lei Lady Sorrento viene in ben sei colori ed eccola qui Lady è uno spettacolo ora ve la racconto Lady Sorrento è questa bellissima borsa con questa tracolla con una tracolla particolare più larga come vedete che non è né corta né lunga ma è media per andare perfettamente a spalla in questo modo qui ovviamente all'interno viene sempre anche con la tracollina più sottile che potete portarla crossbody Lady Sorrento è una borsa che anche lei dice tutto da sé di una qualità esagerata sia nel pellame che nella lavorazione guardate bene le foto sul sito perché vi rendete conto della qualità esagerata di questa borsa si apre con il suo bottone a calamita all'interno è divisa in ben due scompartimenti molto capiente perché come vedete ha una base ampia ha questa pattina corta che appunto si chiude a calamita ed è rifinita in ogni singolo dettaglio l'hardware la incornicia qui sul fondo quindi sulla parte che secondo me è la più particolare di questa borsa ed è la comodità fatta borsa è una borsa che rimane in forma anche se è vuota perché è fatta appunto e cucita in Italia a mano naturalmente in modo tale da rimanere sempre in forma potete portarla come dicevo a spalla o a tracolla crossbody perché all'interno viene con un ulteriore ovviamente tracollina è uno spettacolo è una borsa che vi salverà l'estate ma che sarà bellissima anche in autunno e viene in ben sei colori che adesso vi faccio vedere lei è Lady Sorrento cuoio mia già presa non poteva mancare naturalmente il colore che c'è sempre in tutte le collezioni ed è Lady Sorrento nera ladies parliamone cioè Lady Sorrento veramente non ha bisogno di che io aggiunga nient'altro perché è uno spettacolo cioè guardate anche se andate a mettere la sua tracolla sotto è sempre bellissima comodissima femminile spettacolare nera vi ho detto che ho fatto un po' di colori particolari perché secondo me la forma si prestava bene a dei colori importanti e e che vi fanno proprio il look da soli perfetti per quest'estate questo è un color arancio molto forte come vedete in video sembra più chiaro in realtà un po' più scuro ed è il color zucca eccolo qui è bellissima ladies è veramente sembra più più chiara in realtà è un po' più scura comunque andate a vedere il colore sul sito ha il bordo nero è veramente una signora borsa io l'adoro e lei appunto come vi dicevo l'ho disegnata in un periodo in cui ero veramente stressata per tutto quello che c'è da preparare per un trasferimento tanto importante e quindi c'è tutta la mia forza in questa borsa alla quale sono particolarmente affezionata vi dico la verità ve li sorrento zucca andando avanti un colore che mi piace moltissimo perché sta bene anche qui su tutto è molto particolare ed è il colore blue jeans eccolo qui sempre con la sua tracolla più spessa come potete vedere e ovviamente viene anche con la tracollina piccola per portarla invece crossbody blue jeans non abbiamo finito perché vi ho detto ci sono ben sei colori questa è una delle mie preferite è la panna ladies cioè questa borsa nonostante sia una borsa comunque che io vedo bene proprio per tutti i giorni comoda perché no anche per una passeggiata la sera quando fa caldo eccetera in questo colore diventa super chic anche perché l'hardware filomenamore fa sempre il suo panna con i profili così neri la doppia tracolla bellissima io adoro spettacolare eccola veniamo agli ultimi due colori lady sorrento rosso bella 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 anche lei lei mi ha ispirato particolarmente quando facevo le foto infatti le potete ammirare sul sito e constatare la qualità e la bellezza di questa borsa meravigliosa l'amo perché ragazzi è una misura media molto capiente voi andate a vedere naturalmente naturalmente il video sulla pagina di lady sorrento per vedere tutto quello che riesce a contenere è bella è semplice ma è particolare con questa forma così tonda amo tantissimo e per finire un colore che ha scelto mio marito lo devo dire ladies perché quando ero lì a scegliere con la cartella colori quali colori proporre lui mi ha detto ma questo è bellissimo ma perché non lo inserisci e quindi chi lo acquisterà deve ringraziare Gabriele perché è il colore verde mela eccolo qua anche lui in video sembra più sparaflesciato in realtà è più discreto come colore molto molto bello eccolo qua lady sorrento verde mela vi faccio vedere tutti i colori insieme perché sono meravigliosi secondo me verde rosso poi abbiamo zucca abbiamo cuoio abbiamo aspettate sì mi sono scordata lei Anna perché mi sono data veramente da fare con i colori visto che è secondo me un modello bellissimo che si prestava bene in tanti colori e per finire nero quindi questa qui è la nostra cartella colori di ladies sorrento ladies anche qui vi dico i pezzi sono limitati non ci sarà restock quindi scegliete bene il vostro colore approfittatene sia per le di smeralda che per le di sorrento le di non ci saranno restock io sto per partire per gli stati uniti di conseguenza restock non ce ne saranno accaparratevi le vostre borse veramente sia queste nuove che quelle che già trovate sul sito perché altrimenti rimanete senza andiamo avanti con le sorprese restock le novità e le promo e i racconti allora dopo avervi presentato quindi le di smeralda e le di sorrento le mie due nove ladies vi faccio vedere gli ultimi due restock e poi chiacchieriamo un pochino anche di altro e sì non so cosa state pensando in questo momento perché è come se stessi parlando con delle amiche che dicono Filomena continui a parlarci di borse ma noi vogliamo sapere sapere dell'america vi racconto tutto le di smerali vi racconto tutto perché questo lancio per me è molto molto legato agli Stati Uniti e all'america perché ci ho lavorato tantissimo ed è fondamentale ci sono delle sorprese enormi ve ne faccio vedere già una io ve ne faccio vedere già una dai perché altrimenti non riesco a continuare a chiacchierare vi faccio vedere già una cosa per farvi vedere quanto è reale questo questo cambiamento di vita incredibile che ci aspetta in questo video vi regalo lei non so cosa riuscite a vedere sul sito la vedete meglio è la nuova t-shirt in edizione limitata di Filomen Amore come vedete c'è lo skyline di New York ebbene sì vi ho svelato un'altra cosa dove andremo a stare andremo a New York ladies quindi la maglia non poteva che essere boss lady in New York eccola qui ovviamente ladies questa è un'edizione limitatissima come sapete Filomen Amore è super inclusiva quindi troverete le taglie che vanno dalla S fino alla XXL la maglia non è acquistabile ma si può avere solo in regalo con la promo che vi racconto tra un attimo quindi non fatevela scappare perché anche di lei ovviamente non ci saranno restocche di un evento storico legato al nostro trasferimento negli Stati Uniti la maglia boss lady di New York di Filomen Amore tra le altre cose è bellissima ho disegnato personalmente la stampa e la adoro la potete vedere meglio sul sito perché vi ho messo la foto andiamo avanti allora so che amate tantissimo e questo è il periodo giusto visto che ci sono le partenze per avere le pochette da viaggio quindi la nostra meravigliosa missette una beauty pochette grande media e piccola vi dico che è stata restoccata sia grande sia media che piccola in nero e nude ma c'è una novità c'è un nuovo colore che troverete solo nella misura grande e piccola che è lui pink eccolo qui bellissima meravigliosa sapete che lei è super capiente dentro c'è bagno schiuma trucchi il mondo tutto quello che volete in vera pelle anche lei ovviamente made in Italy andatela a vedere sul sito perché qui è tutto sparaflesciato con questa luce eccola qui bellissima già presa io il set per il mio viaggio grande media e piccola la trovate anche nera e nude ve le ho restoccate tutte perché me le chiedevate quindi le trovate sul sito e poi veniamo all'ultimo restock che è un prodotto che è stato su filomeno amore solo una volta poi è finito e non l'ho più fatto ho voluto restoccarlo per questa occasione così importante ho preso alcuni dei miei prezzi dei miei pezzi preferiti quindi la Lady Smeralda e lei sto parlando del vostro amato Miss Duomo eccolo qui il meraviglioso portafogli trapuntato di filomeno amore bellissimo questo è il nude ladies dentro ovviamente viene nel delicato beige come sapete ha il portacarte il portasoldi e poi appunto ha la zip centrale per gli spicci è comodissimo lo conoscete bene l'avete comprato tanto me l'avete richiesto anche per abbinarlo alle vostre borse trapuntate per esempio potete tranquillamente abbinarlo a Lady Smeralda come vedete è nude oppure potete abbinarlo eccolo qui anche a Lady Sorrento potete abbinarlo a Lady Firenze se avete a Lady Firenze a Lady Roma a tutte le borse vi faccio vedere i quattro colori che trovate disponibili a partire da oggi su filomenamore.it che sono il nero che all'interno invece ho fatto tutto nero ovviamente io ci tengo tantissimo all'interno delle borse e dei portafogli il panna questo colore bellissimo che per esempio potete abbinare eccola qui con Lady Smeralda panna ma anche ora ho solo queste due borse da farvi vedere ma va bene con tutti i panna della mia collezione con Lady Sorrento panna ecco qui ed è appunto Miss Duomo panna poi abbiamo ancora il nude che già vi ho mostrato e una novità una novità che è appunto il rosa baby eccolo qui che è diverso ladies dalla pochette vi voglio far vedere la differenza questo è un pink molto più carico ora con questa luce non si capisce niente però questo è un pink molto molto più carico questo è invece un rosa più delicato rosa baby appunto per il portafogli che io ho già preso mio già ladies assolutamente perché adoro c'è una che va a giro con questa maglia con tutte le rose di tulle sulle spalle cosa mai poteva prendere soltanto il mistuomo rosa veniamo subito alle promo allora ladies la prima promo è quella appunto della t-shirt boss lady in new york che vi dicevo quindi cosa dovrete fare per ricevere boss lady in new york questa per esempio è una taglia un po' più grande perché questa è una m quella di prima è una s ma c'è disponibilità fino alla xxl quindi state tranquille potete scegliere la taglia tranquillamente nel sito non c'è bisogno di scriverlo nelle note come abbiamo fatto in passato ma visto che ci sono dei cambiamenti appunto sul sito e anche nella logistica che vi racconterò via via nei vlog quindi iscrivetevi al canale vi racconterò anche della logistica di filomeno amore dove si è spostata e chi la curerà potete scegliere tranquillamente dalla pagina prodotto la vostra maglia come fare per ricevere la t-shirt boss lady in new york vi basterà semplicemente spendere 49,99 euro in qualsiasi cosa voi vogliate portafoglio borsa quello che volete e riceverete in regalo la super edizione limitata esclusiva boss lady in new york di filomena amore io quasi quasi me la metto adesso adoro amo tantissimo quindi questa è la prima promo la seconda promo è bellissima ed è pensata per l'estate visto che appunto sul sito comunque ci sono diverse borse nuove anche oggi vi ho presentato due borse nuove acquistando due borse io vi regalo vi regalo lei la vostra amata BBB boss bitch bag quindi la borsa da mare di filomena amore comodissima lady molto molto grande super resistente la conoscete bene questa qui all'interno addirittura viene con il suo gancino per appendere le chiavi sarà indispensabile per le vostre vacanze inoltre dentro è rivestita quindi se anche mettete gli asciugamani bagnati o il costume bagnato assolutamente l'aiuto non si andrà a rovinare una borsa ovviamente super naturale perché tutta aiuta con la scritta boss lady filomena amore eccola qui la adoro e potrete averla in regalo acquistando due borse qualsiasi voi vogliate che preferite non per forza di questa uscita ma tutte le borse presenti sul sito nel momento in cui acquistate due borse riceverete in regalo anche la borsa amare la BBB Boss Beach Bag di filomena amore oltre ovviamente alla maglia ma non potevo non festeggiare alla grandissima il mio trasferimento negli Stati Uniti che è così sudato e faticato e non potete capire quanto sono così contenta che ho deciso solo per questo lancio con il codice che vedete in sopraimpressione che dovrebbe essere se mi ricordo bene Filomena Loves New York o qualcosa del genere ve lo scrivo qui perché sono troppo emozionata avrete il 10% di sconto su tutto il sito quindi ladies io veramente non so come non so come esprimere la mia felicità per questa notizia mi auguro che siate felice che sarete felice anche voi per me non vedo l'ora di leggervi nei commenti perché si è una una notizia importante un trasferimento importante ed è una cosa che desideravo tantissimo per la quale ho lottato e ho veramente mi emoziono le disse perché è stato veramente difficile riuscire riuscirci e ho lavorato tanto per per riuscire a fare questa cosa e non vedo l'ora di portarvi con noi nella nostra quotidianità ovviamente continuerò a fare video anche dagli Stati Uniti perché non vi lascio e quindi volevo festeggiare il più possibile con quello che è il mio mondo il mondo filomenamore con le mie meravigliose borse e quindi si tanti regali per voi fatemi tutte le domande che volete così organizzo un video e vi rispondo io secondo me sto dimenticando qualcosa di importante da dirvi del lancio fatemi vedere se vi ho parlato di tutto vi ho fatto vedere Lady Smeralda vi ho fatto vedere Lady Sorrento avete visto la nuova pochette avete visto i meravigliosi nuovi Miss Vomo tre promo per il ricapitolo a raggiungimento di 49,99 euro riceverete in regalo la maglia ecco c'è anche un'altra novità che adesso vi faccio vedere la maglia Boss Lady in New York di Filomena Amore super limitata ci sono pochissimi pezzi ladies ve lo dico e quindi esclusiva non sarà più ristampata invece acquistando due borse qualsiasi borsa che vogliate riceverete in regalo la borsa amare Boss Lady anche lei ormai siamo agli sgoccioli sono rimaste veramente poche e su tutto il sito fino al 30 giugno quindi vi do un bel po' di tempo per fare il vostro shopping trovate ovviamente il 10% di sconto con il codice Filomena Loves New York che vi lascio qua sotto copiate il codice che vedete qui o comunque ve lo scrivo sotto nell'info box lo mettete nel carrello riceverete appunto il 10% di sconto su tutti i vostri acquisti cosa altro dire c'è una nuova cartolina tutte le persone che tutte voi che acquistate sul sito sapete che io aggiungo sempre una cartolina con dei miei pensieri per ringraziarvi dell'acquisto c'è una nuova cartolina che potete vedere quanto bella è perché appunto ha lo stesso sfondo della maglia meraviglioso e dietro c'è come sempre io non mi perdo mai chiacchiere perché scrivo tantissimo e potrete vedere tutte le novità ovviamente le riceverete in ogni ordine ovviamente come sapete per ogni borsa acquistata sempre avrete la dust bag in saten luxury rosa di Filomena vorremmo ve la faccio vedere che è lei eccola qui sia la misura grande che la misura più piccola per riporre e custodire la vostra borsa è spettacolare costa tantissimo veramente io sono fuori di testa perché dovete sapere che quando io produco e creo le mie borse io faccio le cose come se le stessi comprando per me cioè non faccio tipo a risparmio queste cose qui quindi anche la dust bag la più costosa made in Italy fatta a mano in saten luxury che potevo fare io l'ho fatta perché mi piaceva e non vado a fare quelle da 20 centesimi che fanno in giro praticamente che le buttive a questa addirittura se ve le portate anche in vacanza da vivo è ancora più bella perché così sembra troppo chiaro un bellissimo rosa potete metterci dentro non lo so l'intimo i costumi potete metterci dentro le scarpe e portarvela anche in vacanza perché è meravigliosa vedete bellissima quindi io mi auguro di avervi detto tutto sono sicura di aver dimenticato qualcosa nel caso ve lo scrivo nel primo commento sotto si ladies siete pronte partiamo andiamo a vivere negli stati uniti d'america non vedo l'ora verrete con noi cercherò di fare più video possibili condividerò con voi tutto perché si dobbiamo prendere casa nuova dobbiamo fare tantissime cose vi porterò in giro vi farò scoprire anche dove andremo a vivere andremo a vedere i quartieri americani ci sarà la scuola per i bambini insomma tante tantissime cose nel frattempo ladies vi aspetto su filomenamore.it vi lascio il link qua sotto cliccate e andate direttamente appunto al sito per non perdervi tutte le promo anche perché sono fino ad esaurimento scorte le borse hanno delle quantità limitate perché sapete che sono tutte artigianali fatte in italia di conseguenza le quantità ovviamente sono limitate e si parte ladies vi aspetto sul sito ciao